E' precipitata dal balcone del terzo piano ed è atterrata su quello del secondo, che le ha fortunatamente ridotto l'altezza di caduta. E' successo oggi, martedì 16 aprile, intorno alle 16, in un condominio situato in via Rocha a Ponte Canavese. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze della Croce Bianca del Canavese e della Croce Rossa di Castellamonte, i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Ivrea, le di soccorso del 118, i carabinieri e la polizia locale. La donna, 61 anni, prontamente soccorsa, dopo le prime cure è stata trasportata all'ospedale di Ivrea. Fortunatamente non è in pericolo di vita, in corso di accertamenti per capire la dinamica dell'incidente. Fortunatamente non è in pericolo.